Sicuramente si deve fare molto di più, io credo che i femminicidi, le violenze contro le donne siano veramente la rappresentazione più negativa di una forma di imbarbarimento delle nostre società e quindi credo che ci sia sempre da fare qualcosa. Io ritengo principalmente sul versante culturale perché poi voi sapete meglio di me che moltissimi di questi eventi avvengono nell'ambito delle mura domestiche dove non è che possiamo immaginare ci sia un poliziotto, un carabiniere, un magistrato che provvede a garantire la sicurezza delle donne, dei minori e quindi credo che mai come in queste circostanze il tema sia un tema culturale, quindi ci vuole l'impegno di tutti, l'impegno della società, l'impegno dei mezzi di informazione, l'impegno delle istituzioni perché questi fenomeni siano sempre più ridotti a una necessaria marginalità.